L'artigianalità unita all'alta qualità. Sono queste le caratteristiche che contraddistinguono Alpi Legno, presente dal 14 al 17 marzo all'ottava biennale Legno ed Edilizia. Un'azienda storica con sede a Ledro, che dal 2001 risponde a tutte le esigenze del cliente sul tema del legno, attenta alle tecnologie e al risparmio energetico, specializzata nella posa a casa clima e nella coibentazione dei cassonetti per tapparelle. Noi appunto facciamo lavorazioni personalizzate al millimetro con macchinari all'avanguardia. Abbiamo appena fatto due nuovi investimenti. Grazie a questi nuovi macchinari riusciamo ad avere delle lavorazioni personalizzate e su misura al cliente. Qualsiasi cosa vuole la studiamo assieme ai nostri tecnici. Quando il cliente viene da noi andiamo a fare un sopralluogo per vedere tutte le varie esigenze ad hoc per il cliente e abbiamo anche una vasta scelta di colorazioni, di prodotti. Seguiamo tutto dalla A alla Z, dai portoncini ai serramenti, alle scale, ai poggioli, tutto quello che volete nell'ambito della falegnameria. Rivendiamo anche prodotti commerciali come porte interne e portoncini blindati, serramenti in PVC. Fino a giugno ci saranno queste agevolazioni del 55% sul risparmio energetico e del 50% sulle ristrutturazioni edilizie. Alpilegno dispone anche di un programma dedicato allo studio effettivo del risparmio che è possibile ottenere in termini di consumo di riscaldamento con una ristrutturazione che utilizzi in fissi alpilegno a basso consumo energetico. Tutte le produzioni scelgono solo legni provenienti da zone a riforestazione programmata, collanti esenti da sostanze nocive e vernici idrosolubili. Alpilegno è certificata PFC, la certificazione che garantisce la tracciabilità del legname.